Dopo otto anni riapriamo la Corte Malatestiana di Fano. La Corte Malatestiana è stato un luogo magico che ha fatto crescere la passione per la cultura e per lo spettacolo in tanti fanesi che raccontano che da piccolini venivano in questo meraviglioso luogo e assistevano a degli spettacoli. Otto anni fa è stato sbantellato il palco, giustamente perché era ormai datato, non era più in sicurezza e non rispettava la meraviglia dei luoghi. Ricordiamoci che noi qui siamo in una cornice splendida che è il Palazzo Malatestiano che ospita anche il Museo Civico. Ecco, noi riapriamo la Corte in punta di piedi. Dopo otto anni è giunto il momento, quindi il palco sarà questo gradone naturale e abbiamo 200 posti nel quale gli spettatori potranno accomodarsi e assistere agli spettacoli. Purtroppo a causa maltempo gli spettacoli di giugno sono saltati, ma gli spettacoli di luglio sono cominciati. Siamo partiti il 7 luglio con l'orchestra di Fiati Fano un Fortune e adesso il 15 luglio avremo la meravigliosa orchestra sinfonica di Rossini che metterà in scena uno spettacolo assolutamente da non perdere, Pulcinelle il Gigante. Siamo molto emozionati perché sarà in questo luogo rivedere un'orchestra come la sinfonica davvero un'emozione unica. Dopo il 18 avremo la presentazione del nuovo progetto per il Museo del Palazzo Malatestiano di cui vi parleremo in un secondo momento perché quello merita davvero un approfondimento. Il 21 con impronte femminili, Nigraz, ci spiegherà questa nuova immagine che spiega le impronte femminili e infine il 22 di luglio all'interno del Fano Jazz l'orchestra del Vallato suonerà e ci aglietterà sempre in questa splendida cornice. Quindi vi aspettiamo e per agosto ci risentiamo ad agosto perché abbiamo molte date anche ad agosto e a settembre.